Molto meno Presidente, grazie. Solo per ricordare che questa figura professionale è nel piano assunzionale e ci sono i fondi per le prime centinaia di assunzioni, per cui almeno questo è stato fatto. E io credo che questo sia uno degli elementi principali per far sì, proprio come è stato detto più volte da diversi di noi in Aula, per sfondare questa porta e far sì che questi lavoratori vengano re-internalizzati. Volevo solo fare questa precisazione e poi la dichiarazione per il Movimento 5 Stelle l'ha fatta la Presidente Zorta.